Il comune di Mascaluccia batte cassa. La settimana scorsa la giunta Leonardi ha approvato una delibera con cui chiede espressamente alla regione siciliana di inviare le somme residue per il progetto Pari e Diverso. Partito nel 2010 e attuato nel 2013, il progetto Pari e Diverso aveva come obiettivo l'inclusione sociale e ha coinvolto in una serie di opere soggetti svantaggiati. Pari e Diverso ha visto Mascaluccia come comune capofila, oltre alla partecipazione di altri enti comunali dell'Interland catanese e altri partner come l'Università Core di Enna, l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania e l'ASP3 di Catania.